E' morto a Napoli l'avvocato Gerardo Marotta, fondatore e presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che portò ad assumere rilevanza internazionale. Avrebbe compiuto 90 anni il 26 aprile. L'avvocato, così era conosciuto, era ricoverato nella clinica Hermitage Capodimonte per le conseguenze di una brutta caduta. La città perde un grande uomo stimato in tutto il mondo, io perdo anche un amico. Gerardo era un profondo pensatore libero, un filosofo acuto e sensibile, dice il sindaco De Magistris. Una lunga tradizione filosofica, la sua incarnata dall'eredità dell'illuminismo, dall'eghelismo napoletano e soprattutto dal ricordo di quella Repubblica Partenopea del 1799, di cui si sentiva diretto discendente. Quello che per tutta Napoli è stato l'avvocato per Antonomasia, aveva sempre anteposto la difesa della più alta tradizione culturale napoletana a tutto. Perfino, anzi, soprattutto al danaro, che profondeva a piene mani con assoluta dedizione e generosità per l'acquisto di nuovi volumi, per l'istituzione delle borse di studio per giovani allievi dell'istituto, per l'accoglienza e l'ospitalità da destinare ai nomi più nobili della filosofia internazionale. Personaggi come Hans-Georg Gadamer, che grazie ai seminari organizzati da Marotta diventò di casa a Napoli. Durante gli studi universitari fu il fondatore e l'anima dell'Associazione Cultura Nuova. Il 27 maggio del 1975 con Elena Croce, Pietro Piovani e Giovanni Pugliese Carratelli fondò nella sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, di cui divenne presidente a vita.